Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. Prima di iniziare col video però, vi parlo un attimo dello sponsor di oggi. Ringrazio MyHeritage per aver scelto di sponsorizzare questo video. Sono sempre stata incuriosita dalla mia storia familiare ed è per questo che ho deciso di collaborare con MyHeritage. Sono entusiasta di avere la possibilità di scoprire le mie origini e potenzialmente di trovare anche parenti lontani che non conosco. MyHeritage è la piattaforma globale perfetta per esplorare la storia familiare e DNA di ciascuno di voi. Vi mostro subito come si presenta il kit DNA quando vi arrivo a casa. Riceverete le istruzioni che dovrete seguire passo a passo. Due tamponi e due fiale in cui inserire i vostri tamponi per inviarli al laboratorio tramite questa piccola busta. Dovete semplicemente prelevare un campione di DNA tramite questo piccolo tampone. Lo dovete passare all'interno della guancia e nel giro di due minuti avrete i vostri campioni pronti da inviare al laboratorio. In questo modo riuscirete a scoprire le vostre origini tra 42 diverse etnie e 2144 regioni geografiche oltre a trovare nuovi parenti. Prima di leggere con voi i miei risultati di DNA vi informo che MyHeritage tiene moltissimo alla vostra privacy. Non vende né cede mai in licenza i vostri dati, nemmeno se sono generici. E ora che i risultati sono pronti non vedo l'ora di scoprirli insieme a voi. Chissà che cosa mi diranno, i miei genitori e i miei nonni sono del nord e, che io sappia, non ho parenti in giro per il mondo, ma scommetto che MyHeritage mi stupirà. Vediamo quindi insieme i risultati. Sono pronta a scoprire la mia etnia, andiamo. Ovviamente sono per il 53,4% italiana e questo non mi sorprende. Poi sono per il 17,3% inglese e wow, non me lo sarei mai immaginato. Per il 16,9% sono di origine greca e italiana meridionale e anche questo mi stupisce che io sappia, come vi ho detto poco fa, la mia famiglia viene tutta dal nord. Mio padre è veneto, mentre la famiglia di mia madre è di origine lombarda, anche se ha sempre vissuto in Piemonte. Infine sono per il 7,2% di origine balcanica. Wow, non me lo aspettavo proprio, giuro, non ne avevo idea. Cliccando su guarda la mia stima di etnia completa, potete vedere che in effetti le mie origini sono italiane, perché provengono in parte dal Veneto e in parte dalla Lombardia. Aprendo quest'altra pagina, apprendo che nel mio patrimonio genetico c'è un 2,6% di origine ebraica, oltre che irlandese, scozzese e gallese. Wow, non l'avrei mai immaginato, vi giuro. Tramite la corrispondenza del DNA poi scopro di avere due cugini. Uno di terzo grado e l'altro di quarto grado, e anche in questo caso non ne avevo idea. Tutti gli altri sono cugini di terzo grado dei miei genitori, ma è incredibile quante corrispondenze ho trovato grazie a MyHeritage. Tra l'altro, molti di loro non vivono nemmeno in Italia, ma in Africa e in Francia. Io, onestamente, non vedo l'ora di condividere queste scoperte con la mia famiglia. E se volete anche voi scoprire qualcosa di più sulle vostre origini, affrettatevi. MyHeritage è in promozione. Fate clic sul link nell'info box e nel primo commento, oppure scansionate il QR code che vedrete apparire proprio ora sul vostro schermo. Utilizzate poi il codice sconto OCCIO per ottenere la spedizione gratuita. Gli scherzi sono un modo per divertirsi e creare un legame con gli altri attraverso il gioco e il buon umore. Possono variare da qualcosa di semplice e innocuo, come un gioco di parole, a qualcosa di più complesso, che richiede una certa dose di creatività. Ma cosa può accadere quando si superano dei limiti imbalicabili e una giovane vita viene stroncata nel fiore degli anni? Kelly Balwinkle nasce il 5 giugno 1985 e viene cresciuta da sua madre Diane, perché lei e suo marito si separano quando la bambina ha appena tre anni. Il nome del padre non è noto, probabilmente perché da quando si allontana dalla famiglia smette definitivamente di interessarsi a sua figlia. Diane è una guardia costiera, viaggia molto a causa del suo lavoro e Kelly, durante l'infanzia, l'accompagna nei suoi spostamenti. Madre e figlia trascorrono anche tre anni in Alaska, ma man mano che Kelly cresce, Diana capisce che è giunto il momento di dare stabilità alla loro vita, principalmente per il bene della figlia. Nel 1993 la donna decide quindi di trasferirsi in via definitiva a Redlands, in California, in un appartamento in stile spagnolo con tre camere da letto, situato vicino al centro della città. Passa qualche anno e Kelly è ormai un adolescente. Ama frequentare i bar e trascorrere il tempo con gli amici, ma sviluppa anche una forte passione per la moda. Adora fare shopping nei negozi vintage e confezionare da sola i propri vestiti. Il suo sogno è diventare una stilista, ma non ha molta fiducia in se stessa e nelle sue capacità. Intelligente, estroversa e spiritosa, Kelly è dotata di un talento artistico naturale e di una notevole capacità atletica. Partecipa a diverse corsi campestri e pratica sci di fondo. Inoltre, suona il clarinetto. Kelly ama tutti gli animali, ma la sua passione per i cavalli è evidente. Pratica l'equitazione dall'età di 12 anni, da quando suo nonno gli aveva regalato delle lezioni e con il suo cavallo banner partecipa a diverse competizioni equestri. È una ragazza responsabile e autosufficiente, dato che sua madre, lavorando nella guardia costiera, si assenta per lunghi periodi di tempo. Mamma e figlia ospitano anche una coinquilina di nome Laura, che è amica di Diane. Laura però ha la sua vita e il suo lavoro. Kelly passa quindi molto tempo da sola. Tuttavia, nonostante le frequenti assenze, Diane e Kelly sono molto unite, parlano spesso e hanno un ottimo rapporto. Diane, pur non essendo sempre presente fisicamente, cerca come può di essere un punto di riferimento nella vita di sua figlia. All'età di 14 anni, Kelly viene iscritta alla East Valley High School, ma fatica a trovare la sua dimensione. La sua scuola è popolata da gruppi di ragazzi e ragazze che seguono steli diversi, come il goth, il punk e gli skater. Ma Kelly non si sente a suo agio in nessuno di essi. Durante il secondo anno, però, la situazione sembra migliorare. Kelly stringe amicizia con una ragazza di nome Kinsey Nordman, che è popolare e benvoluta. Kinsey ha un suo gruppo ristretto di amici, composto da Damien Guerrero e la sua fidanzata Elodie Romero. Kinsey è una giovane popolare, schietta e sicura di sé. Oltre a essere molto apprezzata, la ragazza è un'attivista e fonda un club per gay e lesbiche nella sua scuola, in linea con la sua sessualità fluida. Frequenta sia ragazze che ragazzi e partecipa tutti gli anni al Gay Pride di Long Beach. Si impegna anche per i diritti degli animali, arrivando a organizzare una protesta contro il consumo di carne all'interno della sua scuola. Insomma, Kinsey è una brava ragazza, ma col tempo inizia a mostrare un lato più oscuro. Un giorno, parlando col suo ragazzo, Marco, dice quanto sarebbe divertente se sua madre si ammalasse di cancro e se loro due insieme le rubassero e le nascondessero le medicine, fino a farla morire. La cosa peggiore è che sua madre sente questa orribile conversazione. Ma non è finita qui. Parlano anche di quanto sarebbe fantastico se il padre di Kinsey si suicidasse. Il migliore amico di Kinsey, Damien, vive in una zona residenziale di classe, in una bella casa a due piani vicino a Redlands, insieme a sua madre, a suo fratello e al patrino. Suo padre è un pompiere e vive a Los Angeles, non so quanto fosse coinvolto nella vita del figlio. Damien è un ragazzo tenebroso e intelligente, affascinato dalla filosofia e amante dei film di Quentin Tarantino. Il suo stile, ispirato a Marilyn Manson, lo fa distinguere sicuramente dagli altri. Vestiti neri, numerosi annelli e piercing, i lenti a contatto bianchi che gli valgono il soprannome di Re Got. Inoltre, colleziona coltelli. Anche se Damien è ammirato dai suoi compagni di classe, in realtà fuori dalle mura scolastiche, è un tipo solitario, preferisce stare per conto suo. Le uniche persone che frequenta sono la sua ragazza Elodie, dallo sguardo intimidatorio e sempre vestita alla moda, e la sua migliore amica e anima gemella, Kinsey. Il rapporto tra Damien e Kinsey è molto particolare, pur non frequentandosi come fidanzati, si considerano anime gemelle. Ad esempio, per Natale, Kinsey compra per entrambi due anelli con dei serpenti, simili a quelli che indossano i protagonisti del film Natural Burn Killer, un film che Kinsey adora. Nella sua camera, infatti, ha diversi poster che raffigurano proprio Mickey e Mallory, e a volte lei e Damien si chiamano l'un l'altro con i nomi dei protagonisti della pellicola. Per chi non avesse visto il film, è bene specificare che Mickey e Mallory sono una coppia di amanti che intraprendono una violenta spirale di crimini legati da una relazione intensa e disfunzionale, alimentata da un profondo senso di ribellione contro la società. Una delle ex ragazze di Kinsey affermerà che Damien era tutto per lei, avrebbe fatto qualsiasi cosa per renderlo felice e lo avrebbe seguito ovunque. Oltre a Natural Burn Killers, i due adorano anche i film Arancia Meccanica e Le Iene. Questi film sono noti per i contenuti violenti e i temi provocatori, in particolare la ribellione contro l'autorità e il caos morale. La loro attrazione per questo genere di pellicole riflette un interesse per storie di antieroi, e per i comportamenti estremi in cui i protagonisti si muovono al di fuori delle regole sociali. Kelly diventa amica di questo trio e lega moltissimo proprio con Kinsey, al punto da considerarla la sua migliore amica. Kelly condivide con Kinsey l'amore per la scrittura. Questa passione le unisce molto. Durante il terzo anno Kelly riceve una menzione d'onore per un saggio che ha scritto sui pericoli della droga, mentre Kinsey vince un concorso di saggi sulla donazione degli organi, ispirandosi sulla storia di una sua amica che era venuta a mancare quando era piccolina. Questa vittoria le dà l'opportunità di incontrare Carl Lewis, il celebre velocista vincitore di numerose medaglie d'oro olimpioniche. Tra i tre amici la persona a cui Kelly è meno legata è Elodie, probabilmente perché Kelly ha una cotta per il suo fidanzato Damien e il ragazzo ne è consapevole, sa che Kelly lo trova attraente. Quando Damien ed Elodie mettono in pausa la loro relazione, lui e Kelly iniziano a vedersi da soli. In pubblico il ragazzo tende a comportarsi in modo freddo e distaccato con Kelly, ma in privato i due coltivano una sorta di relazione segreta trascorrendo molto tempo insieme. Quando sono da soli Damien si dimostra molto dolce, attento e premuroso, facendola sentire importante per lui. Kelly è molto presa da lui, ma Damien non vuole avere una vera relazione con lei, vorrebbe continuare a stare con Elodie nonostante siano in pausa. È convinto che torneranno insieme e, in sostanza, vuole tenere il piede in due scarpe. I due si vedono di tanto in tanto fuori da scuola, ma non trascorrono molto tempo insieme. Quando Damien si allontana, Kelly si sente profondamente triste, è veramente cotta di lui. Anche Laura, l'amica di Diane che vive con loro, afferma che la ragazza le aveva detto di non avere dubbi. Damien era la sua anima gemella. Tuttavia, un'amica di Kelly, Rachel, trova strano che i due abbiano qualcosa in comune e quando scopre la loro relazione segreta, ne rimane stupita. Kelly le aveva tenuto nascosta la sua nuova frequentazione, perché sapeva che non avrebbe approvato, dato che Rachel considera Damien un tipo arrogante e crudele. La ragazza è convinta che Kelly potrebbe sicuramente trovare di meglio, quindi è sorpresa nel vedere la sua amica così entusiasta del ragazzo. Col passare del tempo, sembra proprio che Kelly si innamore di Damien. Lo scrive infatti nel suo diario segreto, dove annota anche il fatto che sono stati in intimità, anche se non sono mai andati fino in fondo. La ragazza sogna di perdere la verginità con lui, ma la situazione cambia drasticamente quando lui inizia a trattarla davvero male, perché Elodie comincia a nutrire dei sospetti. A Elodie, Kelly non è mai stata simpatica, principalmente perché aveva intuito che la ragazza fosse attratta dal suo fidanzato, anche se, ovviamente, ignorava la relazione segreta tra i due. Tuttavia, a un certo punto, la verità emerge. Elodie e Kelly stanno comunicando tramite AIM, un programma di messaggistica istantanea, e Kelly confessa a Elodie che, mentre la loro relazione era in pausa, per un breve periodo lei e Damien si sono visti. Li dice che sono usciti insieme un paio di volte, scambiandosi anche alcune fusioni. Elodie non prende bene questa confessione e le dice di stare lontano dal suo ragazzo, avvertendola di fare attenzione, perché Damien è suo. Perché lì questo non è un buon periodo e la situazione si sta complicando ulteriormente. Ha il cuore spezzato perché continua a piacerle Damien, nonostante lui, ora, si stia comportando come se non volesse avere nulla a che fare con lei e la tratti in maniera crudele. Per di più, Kinsey, che dovrebbe essere la sua più cara amica, inizia a parlare male di lei alle sue spalle. Quando sono insieme, però, continua a comportarsi in modo gentile. Quindi, in pratica, Kinsey è falsa e inizia anche lei a comportarsi male nei confronti di Kelly. Quando sta con Elodie e Damien, Kinsey non solo parla male di Kelly, ma ripete spesso che vorrebbe che Kelly sparisse. E la coppia condivide questo desiderio. Elodie, d'altro canto, è arrabbiata con Kelly perché lei e Damien stanno cercando di tornare insieme, ma Kelly si mette sempre in mezzo. Sostengono che sia ossessionata da lui e che non riesca a dimenticarlo. In realtà, Damien di tanto in tanto si comporta ancora in modo gentile con lei, riaccendendo nella ragazza una speranza, ma di fatto la sta solo prendendo in giro. In un'occasione, Kelly si avvicina a Damien e Elodie e i tre iniziano a discutere. Kelly alza la voce sempre di più finché Damien si decide di prenderla da parte e dirle la verità. Lui sta con Elodie e lei deve lasciarlo perdere. Kelly si sente confusa, sola e isolata. Come vi ho detto, quello già non era un buon periodo per lei e adesso si sente sempre più triste. Una delle sue amiche, Megan, dice che Kelly le aveva addirittura confidato di essere depressa e di volersi togliere la vita. Quando Megan le aveva chiesto spiegazioni, Kelly si era limitata a dirle che stava avendo dei problemi con dei suoi amici, ma che non voleva approfondire la questione con lei. Kelly si sente molto sola perché in realtà lo è. Durante il suo ultimo anno di liceo, sua madre rimane lontana da casa per circa sei mesi. Si trova a bordo di una nave in America centrale. Anche se si sentono spesso sia per telefono che per mail, Diane non sa davvero cosa stia succedendo nella vita di sua figlia, perché lei non le racconta tutto. Qualche giorno dopo Kelly partecipa al ballo di fine anno e due settimane più tardi si diploma. Kelly ormai ha 18 anni e decide di iscriversi al Crafton Hills College. Trova anche un lavoro part-time da Baker's, un fast food. Kelly comincia a sentirsi un po' meglio ed è speranzosa per il suo futuro. Desidera fare nuove amicizie e vuole spostarsi dalla città in cui vive, troppo piccola per le sue ambizioni. Scrive sul suo diario segreto Ora è tempo di voltare pagina. Quelle persone orribili con cui in qualche modo ero amica devono rimanere nel passato per cercare i miei veri amici, quelli che non ho ascoltato quando hanno cercato di indirizzarmi nella direzione giusta. Sembra che Kelly si stia riprendendo e, a detta di tutti, in questo periodo è felice e molto loquace. L'11 settembre 2003 Kelly sta lavorando da Baker's. Quel turno in realtà non era previsto, ma lo ha accettato per sostituire un collega malato. Nonostante l'imprevisto, non è affatto infastidita. Anzi, è contenta di stare a contatto con tante persone. Mentre è impegnata a preparare le ordinazioni, arrivano Kinsey e il suo ragazzo che si chiama Peter. Kinsey parla con Kelly e decidono di fare un'escursione dopo la fine del turno di Kelly. Poi però altri amici le ricordano che aveva in programma di uscire con loro dopo il lavoro. Quando Kelly finisce di lavorare alle 16.20, timbra il cartellino ed esce da Baker's. Ma, a quanto pare, non va né da Kinsey né dall'altro gruppo di amici. Da quel momento, di lei, si perdono le tracce. Il gruppo di amici con cui si era accordata di uscire prima di vedere Kinsey si insospettisce. È strano che Kelly non si sia presentata e non abbia chiamato per avvisare chi aveva cambiato i suoi programmi. Così decidono di tornare da Baker's, ma notano che la sua macchina non è più nel parcheggio. Allora provano ad andare a casa sua, ma non trovano la sua auto nemmeno lì e questo li preoccupa ulteriormente. Quando aprono l'app di messaggistica AIM si rendono conto che Kelly non ha fatto più alcun accesso. È insolito perché la usa molto spesso per comunicare e, se non è al lavoro, è sempre connessa. Questa app è molto simile a MSN e difficilmente le persone fanno il logout. Se non sono al computer, di solito lasciano un messaggio automatico che parte in caso qualcuno provi a contattarli. Il giorno dopo la scomparsa di Kelly, Kinsey contatta un'altra delle loro amiche e le chiede di raggiungerla. Le dice che lei e Kelly avrebbero dovuto fare insieme un'escursione, ma che la ragazza non si era presentata e non sta rispondendo alle sue chiamate. Le due ragazze si incontrano e passano davanti a casa di Kelly, ma la sua macchina non c'è e loro non sanno cosa fare. Tornano quindi indietro e Kinsey prova di nuovo a chiamare Kelly, ma senza successo. Così le lascia un messaggio sulla segreteria telefonica. Cosa sta succedendo? Vuoi fare qualcosa più tardi? Ti va se ci vediamo? Anche questa volta, però, non riceve risposta. A questo punto anche altre persone iniziano a notare che Kelly è scomparsa, tra cui il suo capo, visto che non si è presentata per due turni di fila al lavoro. Il suo capo è perplesso. Sai che Kelly è una persona affidabile? Se avesse avuto qualche contrattempo, avrebbe sicuramente chiamato per avvisare. Così l'uomo inizia a chiamarla e le lascia diversi messaggi in segreteria. Il problema è che a casa non c'è nessuno che possa ascoltare quei messaggi. Kelly è scomparsa. Sua madre è su una nave da qualche parte in America a causa del suo lavoro da guardia costiera. E a casa non c'è neanche Laura, la coinquilina, perché è andata via per cinque giorni per fare visita alla sua famiglia. Quando Laura torna a casa dal suo viaggio, nota subito che c'è qualcosa che non va. La luce del portico è accesa. La posta si sta accumulando e ci sono decine e decine di messaggi nella segreteria telefonica. Tuttavia la cosa che più la colpisce è lo stato degli animali di Kelly, visibilmente trascurati. La ragazza li ama e non li avrebbe mai abbandonati. Nessuno ha dato da mangiare ai suoi quattro gatti e al pesce rosso. Anche il suo pastore australiano di nome Blades è evidentemente affamato. Senza contare che questo cane ha il diabete e ha bisogno di due iniezioni di insulina al giorno. Ma chiaramente nessuno gliele aveva somministrate. Preoccupata, Laura percorre di corsa cinque miglia per arrivare alla stazione di polizia. Kelly viene dichiarata scomparsa il 15 settembre e Laura fa del suo meglio per fornire all'ufficiale di polizia tutte le informazioni in suo possesso. Racconta lo stato in cui ha trovato la casa e gli animali tutti affamati e spiega che Kelly va spesso in giro con un'amica con cui talvolta fa uso di sostanze psichedeliche. Laura si riferisce a Kinsey. Menziona anche che Kelly ha avuto problemi di depressione e la polizia annota tutto. Tuttavia, come accade quasi sempre in questi casi, e io mi chiedo perché, ipotizzano che Kelly sia semplicemente scappata di casa. Su quale basi? Nessuna. A mio avviso, nessuna. Laura poi chiama anche Diane, la madre di Kelly, per informarla della scomparsa di sua figlia. La donna torna a casa il prima possibile e tiene una conferenza stampa per attirare l'attenzione sul caso di Kelly. La donna ha la sensazione che la scomparsa di sua figlia non venga presa seriamente. Temi che le autorità siano veramente convinte che sua figlia si sia allontanata volontariamente e lei sa benissimo che non può essere andata così. Dice che sua figlia non l'avrebbe mai fatto, spiega che aveva degli animali domestici di cui prendersi cura, delle lezioni da seguire e il suo lavoro. È frustrata perché dice di essere convinta che la scomparsa della sua unica figlia non venga trattata con la massima urgenza, né dalla polizia né dai media. Afferma che le indagini portate avanti dalla polizia per escludere che si tratti di una fuga da casa siano solo una perdita di tempo. Tuttavia la polizia ritiene necessario escludere questa eventualità, quindi gli agenti si recono a casa di Diane e di Kelly. Dopo aver esaminato la stanza della ragazza trovano in una tasca di una giacca un coltello e alcuni scritti sulla depressione. Questo li convince che non solo sia scappata, ma si sia anche tolta la vita. Poi però succede qualcosa. Trovano la macchina di Kelly, una Mazda Blue del 1992. La ragazza aveva lavorato duramente per potersela permettere. Lei e sua madre l'avevano comprata insieme, dividendo il costo a metà. È abbandonata nel parcheggio di Ontario Mills, un centro commerciale a Ontario che si trova a circa 37 chilometri da Redlands, dove abita Kelly. Gli amici e la famiglia sperano che gli agenti trovino qualche indizio utile, che gli indirizzi verso una pista da seguire, ma purtroppo non trovano nulla. Per intere settimane tutti continuano a sperare che Kelly torni a casa, cercando di pensare positivo. Nel frattempo la madre di Kelly parla con i media e tiene conferenze stampa. In una di queste fa un appello al possibile rapittore di sua figlia, dicendo «Chiunque abbia Kelly, per favore, fatela tornare a casa. Non fatele del male. È una brava ragazza». Vengono appesi manifesti in tutta la città. Le ricerche vengono avviate e numerosi volontari si fanno avanti per dare una mano. La famiglia di Kelly incontra anche la madre di Polly Class, tramite la fondazione che porta il suo nome per ottenere un aiuto nelle ricerche. Infatti dovete sapere che Kelly e la sua famiglia al tempo avevano partecipato attivamente alla ricerche di Polly, quando era scomparsa dieci anni prima, e Kelly aveva anche partecipato alla sua cerimonia funebre. Vi ho parlato del caso di Polly non molto tempo fa sul canale. L'omicidio di Polly Class avvenne il 1 ottobre 1993. Polly era una bambina di 12 anni, rapita da casa sua a Petaluma, in California, e in seguito strangolata da Richard Allen Davis, condannato alla pena di morte nel 1996. Ora però è la figlia di Diana a essere scomparsa. Ma, nonostante tutto, la sua famiglia cerca ancora di aggrapparsi alla speranza di ritrovarla sana e salva. Purtroppo, tutte le speranze vengono infrante il 4 ottobre 2003, quando il corpo di Kelly viene trovato in un aranceto nel San Timoteo Canyon. La polizia non ha dubbi sul fatto che si tratti di Kelly Balwinkle, ma inizialmente non lo riferisce al pubblico. Viene solamente dichiarato che è stata trovata una donna priva di vita in una fossa poco profonda, coperta da un divano abbandonato. Il corpo è in avanzato stato di decomposizione. Indossa una canottiera, la camicia da lavoro, una giacca mimetica e dei jeans, gli stessi abiti del giorno della sua scomparsa. Vengono ritrovati anche un cellulare rotto, una borsa di tela verde, dei guanti in pelle, il manico di una pala e un bossolo di proiettile proveniente da una pistola calibro 25. Prima che la vittima venga ufficialmente identificata, Diane parla in media dicendo di essere devastata. La conferma che si tratti di Kelly arriva grazie alle impronte dentali. L'autopsia rivela che la ragazza è morta seguito di due colpi di arma da fuoco. Il primo non era stato mortale, il proiettile aveva sfiorato la parte superiore sinistra della testa, mentre il secondo che l'ha colpita, nella parte anteriore della testa, è stato quello fatale. L'omicidio di questa giovane ragazza sconvolge profondamente la piccola città di Redlands, al punto che il sindaco offre una ricompensa di 10.000 dollari per qualsiasi informazione che possa portare all'arresto e alla condanna dei responsabili. Tutta la comunità è sotto shock, soprattutto considerando che l'anno precedente, nel 2002, non si era verificato nessun omicidio a Redlands. È raro che si verifichino dei crimini come questo, specialmente l'omicidio di una giovane donna come Kelly. In passato i casi di scomparsa avvenuti in questa zona si erano sempre conclusi in maniera positiva. Al funerale di Kelly partecipano più di 400 persone e i suoi amici sono affranti, soprattutto Kinsey e Damien. Diane porta ogni settimana dei fiori viola sulla tomba della figlia. Anche quando parte nuovamente per lavoro affida il compito a un fioraio, volendo che quei fiori continuino ad adornare la tomba anche in sua assenza. E così sarà per gli anni a seguire, fino a quando Diane verrà congedata dopo 26 anni di servizio. Ora che il corpo è stato ritrovato, l'indagine per la scomparsa di Kelly si trasforma in un'indagine per omicidio. Chi avrebbe potuto volere la morte di questa giovane ragazza piena di sogni? La polizia perquisisce la casa di Kelly e gli agenti raccolgono e catalogano tutti i suoi effetti personali. Tra i primi oggetti che vengono sequestrati c'è il computer di Kelly ed è proprio lì che emerge il primo indizio importante. Nel computer trovano infatti tutti i messaggi che si scambiava su AIM con i suoi amici e in uno di questi, Elodie, minaccia Kelly. A quanto pare non sono solo i messaggi istantanei a portare la polizia a sospettare di Elodie perché vengono a scoprire che le due avevano anche litigato al ballo di fine anno del liceo. Kelly era andata al ballo di fine anno con Kinsey ed era bellissima. Aveva indossato un vestito lungo fino al ginocchio di un colore che si abbinava perfettamente alla tinta dei suoi capelli. Al ballo erano presenti anche Damien ed Elodie e, a letta di tutti, all'inizio della serata sembrava che si stessero divertendo, ballando tutti insieme. Durante la serata però Kinsey aveva cercato di convincere Damien a fare uso della polverina bianca insieme a lei e Kelly, ma Damien aveva rifiutato. La tensione tra loro era aumentata e improvvisamente Kelly e Elodie avevano iniziato a litigare. Elodie aveva accusato Kelly di averle copiato le scarpe, visto che erano uguali alle sue. Le due avevano iniziato a insultarsi a vicenda, ma si trattava di un litigio sciocco che non si era protratto a lungo. Sembrava un evento insignificante, almeno fino a quel momento. Elodie viene portata alla stazione di polizia per essere interrogata ed è visibilmente sconvolta. Dice agli ufficiali che voleva bene a Kelly e che mai le sarebbe passato per la mente di farle del male. Ammette che a volte litigavano, lei si arrabbiava e le diceva cose brutte. Una volta l'aveva anche minacciata, ma sostiene che fossero solo parole dette durante dei momenti di rabbia. Gli ufficiali credono che Elodie avesse dei motivi per non volere Kelly tra i piedi, dato che era andata a letto con il suo ragazzo. Alla fine però viene esclusa dalla lista dei sospettati perché ha un alibi solido. Durante i primi giorni di indagini la polizia interroga circa 200 testimoni, seguendo alcune piste suggerite dagli amici. Kinsey, la migliore amica di Kelly, collabora attivamente con gli investigatori, cercando di fornire tutte le informazioni possibili. Suggerisce alla polizia che il delitto potrebbe essere legato alle sostanze, perché Kelly, di tanto in tanto, faceva uso della polverina bianca e della sostanza leggera. Kinsey spiega agli agenti che non si fidava delle persone da cui Kelly si procurava quelle sostanze, trovandole piuttosto sospette. Inoltre dubita che Kelly sarebbe andata volontariamente nella zona dove è stata trovata senza vita, perché aveva paura di quel luogo. Pensa quindi che Kelly sia andata lì per prendere qualcosa di importante per lei e ipotizza che dovesse acquistare delle sostanze. Kinsey suggerisce infine agli investigatori di indagare su due individui, Jim Duncan e Bob Kirkland, perché si vocifera che siano stati loro a derubare e uccidere Kelly. Jim Duncan tra l'altro è il cugino di un collega di Kelly. Le voci che girano dicono che Jim Duncan avesse confessato al cugino di aver ucciso Kelly insieme a un suo amico di nome Bob. L'avevano derubata perché credevano che avesse molti soldi, dato che in un'occasione la ragazza aveva comprato da lui 100 dollari di polverina bianca. Vedere una ragazza della sua età che maneggiava così tanti soldi lo aveva stupito. Inoltre sapevano che Kelly abitava in una bella casa e questo li aveva convinti di poter ottenere un bel gruzzoletto uccidendola. La polizia di conseguenza si concentra su Jim e Bob e riescono facilmente a rintracciarli perché sono già in custodia per un furto d'auto. Quando vengono interrogati entrambi negano di aver ucciso Kelly affermando che quelle che avevano sentito erano tutte chiacchiere. Dichiarano inoltre di avere un alibi. Stavano commettendo vari crimini in tutta Redlands compresi furti con scasso e un'aggressione intima. Gli ufficiali decidono comunque di perquisire le loro abitazioni. A casa di Bob trovano una maglietta e dei pantaloni insanguinati e anche una sezione del tappeto in salotto è visibilmente sporca di sangue quindi la tagliano e la ripertano come prova. Tuttavia la scoperta più importante sono dei ritagli di giornale che riportano articoli relativi al caso di Kelly trovati nelle case di entrambi i ragazzi. Pensano di essere sulla pista giusta ma poi gli ufficiali ricevono una chiamata che cambia completamente la direzione delle loro indagini. Alla fine questi due ragazzi vengono esclusi dalla lista dei sospettati dell'omicidio di Kelly ma ciò non toglie che siano comunque dei criminali. Ma parliamo di questa chiamata. Proviene da un amico di Kelly, Scott, che è anche cugino di Kinsey. Scott chiama la polizia e dice che uno degli amici di Kelly ha una piccola pistola argentata. Lui l'ha vista con i suoi occhi, nel vano portaoggetti dell'auto di Damien. Questa per la polizia è un'informazione importantissima, non solo perché Damien era amico di Kelly ma anche perché è il fidanzato di Elodie e loro già sospettavano di Elodie. Così decidono di portare Damien alla stazione di polizia per interrogarlo. Gli chiedono dove si trovasse la notte in cui Kelly è scomparsa e Damien fornisce un alibi. Spiega che era stato con Kinsey, avevano trascorso un po' di tempo assieme, prima al centro commerciale e poi al cinema. Si erano salutati verso le 23 e successivamente Damien era andato a casa di Elodie dove era rimasto per un paio d'ore. Quando gli agenti gli chiedono se possiede una pistola, Damien inizialmente nega. Tuttavia gli agenti gli fanno capire che sanno già la verità e che non è una buona idea mentire durante un interrogatorio. A quel punto Damien ammette di avere una pistola e racconta che gli è stata regalata da suo fratello maggiore che l'aveva acquistata da un ragazzo di nome Josh che vive a Yucaipa. Nonostante all'inizio fosse stato contento di questo regalo, dopo un po' aveva iniziato a sentirsi insicuro e aveva deciso di gettarla in un canale di scolo. La pistola in effetti non verrà mai trovata. Pensando a come far progredire le indagini senza quell'arma, i detective provano a rintracciare Josh, il ragazzo che ha venduto la pistola al fratello di Damien. Gli agenti si dirigono quindi a casa sua. Quando Josh apre la porta, i detective gli chiedono immediatamente se avesse venduto una pistola al fratello di Damien. Josh conferma specificando di avergliela venduta circa un anno prima. Si tratta di una pistola calibro 25, esattamente lo stesso calibro del bossolo che è stato trovato vicino al corpo di Kelly. La polizia, sempre più insospettita, gli chiede se avesse mai provato a sparare con quella pistola nel suo giardino, sperando di poter recuperare qualche bossolo per fare un confronto. Fortunatamente Josh aveva provato quella pistola a casa di sua madre. I detective quindi si recano a casa della madre di Josh, perquisiscono il cortile e trovano tre bossoli di proiettile calibro 25. Gli analizzano e li confrontano con il bossolo ritrovato sulla scena del crimine dell'omicidio di Kelly e riscontrano una corrispondenza. Ma questo, in realtà, non è l'unico bossolo che combacia. Ne trovano un altro durante la perquisizione a casa di Damien, nascosto in un portagioielli. A questo punto la polizia porta nuovamente Kinsey in centrale per interrogarla riguardo alla notte in cui Kelly è scomparsa. La sua versione dei fatti, però, è completamente diversa da quella di Damien. Kinsey spiega che prima della scomparsa della ragazza era andata al fast food in cui lavorava Kelly per invitarla a fare un'escursione. Al termine del suo turno di lavoro le ragazze erano andate al San Timoteo Canyon, dove avevano in programma di incontrare Damien. Kinsey però ammette che lei e Damien, nelle due settimane precedenti, avevano organizzato uno scherzo con l'intenzione di far sfaventare Kelly. L'idea era di portarla davanti a una fossa poco profonda scavata in precedenza, facendole credere che aveva l'intenzione di ucciderla. Tuttavia, sempre secondo il racconto di Kinsey, Damien aveva portato con sé una pistola, cosa che non faceva parte del loro piano. Damien però tardava ad arrivare ed erano rimasti lì ad aspettarlo per ben due ore. Proprio quando erano salite in macchina e stavano per andarsene, Damien era arrivato. Le due ragazze erano scese nuovamente dalla macchina e avevano deciso di fare una camminata tutti insieme fino all'aranceto, dove era stata precedentemente scavata la fossa. Lo scherzo stava riuscendo, Kelly era chiaramente spaventata, ma poi, all'improvviso, Damien aveva estratto la pistola e aveva accidentalmente sparato un colpo, colpendo Kelly di striscio alla testa. Kelly era caduta a terra terrorizzata e Kinsey aveva preso la pistola dalle mani di Damien, si era avvicinata alla ragazza e gli aveva sparato di nuovo. Ma la pistola si era inceppata. Quando l'arma aveva ripreso a funzionare, Kinsey si era avvicinata di nuovo a Kelly e le aveva sparato in testa per porre fine alla sua sofferenza. Poi Damien le aveva presa in braccio e l'aveva adagiata nella fossa poco profonda, che era diventata davvero la sua tomba. Kinsey aveva iniziato a coprirla con la terra e, successivamente, avevano livellato la superficie con una pala che apparteneva al padre di Kinsey. Per finire, avevano trascinato un divano abbandonato nell'arancetto sopra alla fossa per nasconderla. Dopo, Kinsey era salita sull'auto di Kelly e aveva guidato fino a Ontario Mills con Damien, che la seguiva con la sua macchina. Avevano abbandonato il veicolo di Kelly e si erano cambiati i vestiti, dato che si erano premuniti di portarsi dietro un cambio. Non era il caso andare in giro con i vestiti macchiati di sangue. Avevano gettato le chiavi della macchina di Kelly in un cassonetto e, infine, erano andati a cenare da Dennis, una catena di fast food. Dopo cena, per rinforzare il loro alibi, erano andati al cinema a vedere C'era una volta in Messico. Dopo il film, Kinsey era tornato a casa, mentre Damien era andato dalla sua ragazza, Elodie. Entrambi si erano cambiati come se tutto fosse normale, fingendo di essere addolorati, prima per la scomparsa e poi per la morte di Kelly. Nel frattempo, però, Kinsey e Damien non se la stavano passando affatto bene. Kinsey si sentiva sempre più insicura riguardo alla sua amicizia con Damien, convinta che il loro rapporto fosse destinato a finire presto. Sentiva che si stavano allontanando sempre di più ogni giorno che passava. Kinsey, però, non pensava che questo distacco fosse frutto di ciò che avevano fatto insieme, bensì era convinta che Elodie la odiasse e che stesse cercando di separarli. Questa situazione influenzava tantissimo il suo umore, alternava momenti di felicità e positività a momenti di rabbia e tristezza. Anche Damien stava faticando a gestire la situazione. In un'occasione, lui ed Elodie erano a casa sua e avevano iniziato a litigare. Durante questa discussione, Damien aveva avuto un crollo nervoso, aveva iniziato a piangere e a urlare istericamente, prendendo a pugni la porta del garage di fronte a sua madre. Dopo questo sfogo, aveva confessato tutto. Aveva detto alla sua ragazza e a sua madre che si era trattato di un incidente. Non avevano mai avuto intenzione di uccidere Kelly. Doveva essere solo uno scherzo, ma lei era morta. E alla fine l'avevano messa davvero in quella buca, ma sapevano entrambi che era troppo piccola. Kelly non doveva morire, altrimenti ne avremmo scavata una più grande, aveva detto Damien. Dopo la confessione di Kinsey, i detective le permettono di andarsene perché vogliono una confessione anche da Damien. Espirano che Kinsey comunichi con lui, spingendola a costituirsi. Questo, però, non accade. Damien non la contatta e non si fa vedere, ma Kinsey ha comunque già confessato di aver sparato a Kelly, uccidendola. Kinsey chiama il suo fidanzato Peter e confessa anche a lui di aver ucciso Kelly. Gli dice che la polizia aveva inizialmente arrestato altri due ragazzi e quindi lei era convinta sarebbero stati accusati e processati loro per l'omicidio di Kelly. Le cose, per ora, sono cambiate. È sicura che presto verrà arrestata e quindi non sa che fare. C'è però una cosa che Kinsey non sa, ovvero che il telefono di Peter è sotto controllo, quindi questa confessione viene registrata. Kinsey confessa il delitto anche a sua madre, in presenza di un poliziotto. Sua madre le domanda perché, invece di chiamare qualcuno per chiedere aiuto, abbia deciso di sparare a Kelly. Kinsey risponde che il suo telefono non aveva campo. Sua madre la guarda e le dice, tu dovresti essere in prigione. E si arrabbia con la polizia per non averla arrestata subito, piuttosto che lasciarla tornare a casa. Dopo questa ennesima confessione di Kinsey, la polizia si rica a casa di Damien per comunicargli che la sua amica ha vuotato il sacco. Sanno che anche lui è coinvolto nell'omicidio di Kelly. Ebbene Damien, tenetevi forte, risponde con queste esatte parole. Interessante, non voglio rispondere a nessuna domanda, ora entrerò in casa e andrò a farmi un pisolino. A questo punto sia Kinsey Nordman che Damien Guerrero vengono arrestati e accusati di omicidio di uso personale e intenzionale di un'arma da fuoco. L'ufficio del procuratore distrettuale prende in considerazione l'ipotesi di un'accusa per circostanze speciali, che avrebbe reso i due imputati idonei alla pena di morte. La cauzione viene fissata a 5 milioni di dollari. Quando la notizia che Kinsey e Damien sono i responsabili della morte di Kelly si diffonde, le persone ne rimangono sconvolte. La polizia aveva suggerito fin dall'inizio che l'omicidio fosse legato alle sostanze, motivo per cui erano stati arrestati Jim Duncan e Bob Kirkland, noti spacciatori. Quindi scoprire che in realtà i colpevoli erano due amici di Kelly lascia tutti increduli. Il capo della polizia dichiara pubblicamente che il movente del delitto riguarda una disputa personale, aggiungendo che le due ragazze erano presumibilmente amiche. La madre di Kelly è incredula e ha il cuore spezzato, perché conosceva Kinsey e Damien e sapeva che sua figlia li frequentava. Questi ragazzi avevano una vita intera davanti a loro e non erano dei nulla facenti. Damien era uno studente di psicologia e lavorava part-time come receptionist in un hotel, mentre Kinsey lavorava anch'essa come receptionist dello stesso hotel, ma in un'altra sede. Eppure erano stati loro a uccidere Kelly, una loro amica. I due vengono processati insieme, ma con giurie separate. Nessuno dei due mostra rimorso durante il processo, anzi a dirla tutta finiscono per incolparsi a vicenda. La difesa sostiene che si sia trattato di un tragico, terribile incidente, uno scherzo finito male, esattamente come aveva dichiarato Kinsey nelle sue precedenti confessioni. La pistola non avrebbe dovuto sparare ed è chiaro che si trattasse di uno scherzo, perché la tomba che avevano scavato i due imputati per Kelly era troppo piccola, il che dimostrerebbe la mancanza di premeditazione. Diane, la madre di Kelly, comprensibilmente va su tutte le furie. Come possono dire che sua figlia è morta per uno scherzo? Kelly è morta perché è stata assassinata. Aggiunge che se la storia di Kinsey fosse vera, allora Kelly sarebbe stata ancora viva quando le cose erano degenerate. E loro avrebbero avuto l'opportunità di fermarsi. Ma avevano deciso di non farlo e Kinsey l'aveva uccisa. Oltretutto il comportamento di Kinsey dopo l'omicidio rende tutto ancora più sconvolgente. Aveva aiutato la madre di Kelly a cercare la figlia scomparsa e, tra l'altro, aveva partecipato a una ricerca che aveva coinvolto un centinaio di membri della Guardia Costiera degli Stati Uniti. Erano andati a cercare Kelly anche a Ontario Mills, dove la stessa Kinsey aveva lasciato la macchina di Kelly dopo il delitto. Aveva affisso diversi manifesti sulla scomparsa di Kelly e aveva anche cercato di ostacolare le indagini della polizia, indicando come probabili sospettati Jim Duncan e Bob Kirkland, per sviare le indagini da se stessa. Kinsey durante il processo legge alla corte una dichiarazione di tre pagine in cui afferma che non ci sono scuse per quello che ha fatto, ma sa che nel profondo del suo cuore, in realtà, non intendeva fare del male a Kelly. Avrebbe fatto qualsiasi cosa per riportarla in vita. Nonostante le sue parole, il 9 marzo 2005, Kinsey viene condannata per omicidio di primo grado a un minimo di 45 anni di carcere, senza possibilità di libertà vigilata, prima di 44 anni. Le viene inoltre ordinato di pagare un risarcimento di 39.000 dollari. Durante il processo di Damian, invece, la giuria non riesce a raggiungere un verdetto unanime. 11 giurati sono favorevoli alla condanna, ma un giurato, uno solo, si oppone. Per evitare un nuovo processo, Damian, che ora ha 23 anni, accetta un patteggiamento, dichiarandosi colpevole di omicidio di secondo grado. Durante l'udienza di condanna, Damian piange. Sono presenti in aula delle foto molto grandi di Kelly e viene mostrata una presentazione con diverse sue foto a partire da quando era bambina, fino ai suoi 18 anni, ovvero fino alla sua morte. Damian viene condannato a un minimo di 15 anni di carcere, perché gli vengono riconosciuti i 5 anni che aveva già passato in prigione in attesa del processo. Dopo 15 anni, quindi, Damian dovrebbe venire rilasciato in libertà vigilata, ma i membri della comunità non ne sono affatto felici e viene lanciata una petizione contro il suo rilascio. La gente è a dir poco indignata. Damian è colui che ha portato la pistola. Ha scavato con le sue mani la fossa per Kelly e si è portato dietro i vestiti di ricambio. Ma non è finita qui, perché Damian aveva partecipato anche al funerale di Kelly, fingendo di essere dispiaciuto per la sua morte. Insieme a Kinsey e ad altri amici di Kelly, aveva distribuito dei volantini per ritrovarla e poco dopo il ritrovamento del corpo, avevano anche costruito un memoriale vicino al luogo dove è stata trovata senza vita. Su quel memoriale, Damian aveva avuto l'audacia di scrivere «Mi dispiace, non ti ho saputa proteggere», mentre Kinsey aveva scritto «Sarei morta per te». Vi ricordo che è Kinsey ad aver sparato il colpo mortale che alla fine ha ucciso Kelly. La petizione ottiene 2300 firme, ma nonostante ciò a Damian in Guerrero viene concessa la libertà vigilata all'età di 39 anni, nel 2019. Tuttavia, accade qualcosa. Il governatore della California, Garvin Newsom, interviene annullando il rilascio. Newsom afferma che Damian aveva attirato Kelly verso la morte, facendole credere che quello era un incontro con i suoi più cari amici. Dopo averla uccisa, aveva anche lasciato che la sua famiglia la cercasse in vano. Inoltre, afferma che la spiegazione di Damian relativa alla sua partecipazione al crimine non era sufficiente. Damian aveva dichiarato che il suo coinvolgimento era dovuto a una relazione di codipendenza con Kinsey. Sentiva che la loro relazione stava andando in pezzi e aveva paura di perderla, quindi faceva tutto il possibile per accontentarla. Persino uccidere una ragazza innocente. Newsom conclude dicendo che finché Damian non avesse fornito una spiegazione adeguata sul motivo che l'aveva spinto a fare qualcosa di così orribile, non avrebbe meritato di essere rilasciato. Anche l'udienza successiva per la libertà vigilata prevista per aprile 2021 viene rigettata. Nel 2023, dopo tre tentativi falliti, Damian Guerrero viene effettivamente rilasciato all'età di 38 anni, a pochi mesi dal ventesimo compleanno della morte di Kelly. Nel frattempo, Diane, la madre di Kelly, è venuta a mancare nel febbraio 2014. È stata cremata e ora condivide la lapide con sua figlia. La nonna di Kelly, Dolores, afferma che a causa di Damian ora non ha più nessuno. Ora vi leggo le sue parole. Mia figlia e mia nipote erano tutto ciò che avevo e lui ha ucciso Kelly. Poi mia figlia Diane è morta di crepacuore. Aveva detto, non ho più niente per cui vivere. Dopo aver ucciso Kelly, ha distrutto la mia famiglia. È un mostro pieno di odio. Arriviamo alla conclusione del caso di oggi. Mi chiedo come Damian e Kinsey abbiano trovato la forza di fingere in quel modo nei giorni dopo il delitto. È incredibile perché sono stati vicini a Diane e hanno partecipato alle ricerche per trovare Kelly. In maniera totalmente falsa. Con la consapevolezza che ad averla uccisa erano stati proprio loro. Lo hanno definito uno scherzo, una burla, un incidente. Ma permettetemi di dirvi una cosa. Non si estrae una pistola carica per scherzo. Né si preme il grilletto di una pistola per scherzo. Non mi aspettavo l'intervento del governatore della California. Non ho mai trattato casi in cui si sia verificata una cosa del genere. Però credo abbia fatto bene a non permettere a Damian di uscire di prigione così presto. Anche se non ha materialmente premuto il grilletto, quell'arma l'aveva portata lui con sé. Onestamente credo che se una persona si porta dietro un'arma, il fine è quello di uccidere qualcuno o fare del male a qualcuno. Sbaglio? Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Ecco perché non credo a una sola parola quando tirano in ballo l'incidente e hanno il coraggio di dire che Kelly non sarebbe dovuta morire. Fammi capire. Prendi una pistola. Ci metti dentro il proiettile. La punti. Premi il grilletto e quello tu lo consideri un incidente? Io sono comunque senza parole. Per quanto mi riguarda si nega l'evidenza. Ok? L'evidenza perché questo non è mai stato un incidente. Sono andati lì. Damian è andato lì con l'intento di ucciderla. Kinsey quando ha visto l'arma, l'ha presa e ha sparato il colpo finale. Il colpo che ha ucciso Kelly. E aggiungo, detto sinceramente, trovo che il fatto di aver scavato una fossa troppo piccola non voglia dire granché. Cioè probabilmente hanno sbagliato a prendere le misure. E anche nella lontana ipotesi che fosse davvero partito come uno scherzo. Ma davvero pensavano fosse divertente scavare una tomba per far credere a una loro amica che ci sarebbe finita dentro senza vita. Ma che diavolo di scherzo è? Ovviamente sono curiosa di sapere cosa ne pensate voi. Credete che sia davvero partito tutto come uno scherzo? O pensate che sia un delitto freddamente premeditato? Trovate sia stata giusta la decisione del governatore della California? Fatemi sapere quali sono le vostre opinioni qui sotto nei commenti. Perché io vi leggo tutti e sono molto incuriosita dalle vostre idee e dalle vostre opinioni. Io ringrazio nuovamente MyHeritage e vi ricordo che con il codice sconto OCCIO potrete ottenere la spedizione gratuita per ricevere il vostro kit DNA e scoprire le vostre origini. Detto questo io ho finito di parlare in questo video quindi vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti!